Il fine settimana dello sport pesarese si conclude con un triplete di vittori importanti per le squadre protagoniste dei match in programma. In ordine cronologico, i primi ad esultare sono stati i tifosi giocatori del Little Service, che venerdì sera ha battuto per 3-2 gli sfidanti della Bernardinello Petrarca Padova. Nonostante gli ospiti abbiano confermato di essere una squadra solida, Little Service ha tenuto in mano il pallino del gioco per quasi tutta la partita, segnando la rete del vantaggio grazie al rigore confezionato da Cuzzolino. Little Service dunque si porta alla vetta della classifica di Serie A, con in mente l'inizio della Champions League in programma per sabato prossimo. Performance straordinaria anche per la Carpegna Prosciutto Basket. La squadra, dopo lo stop della scorsa settimana dovuto al numero di giocatori risultati positivi al Covid-19, è cesa in campo alla Vitri Frigo Arena per sfidare Reggio Emilia. La non aggiornata di Serie A è andata dunque ai pesaresi, che battendo gli avversari con il risultato finale di 84-63 si sono portati al terzo posto in classifica, più che soddisfatto coach Repja. Una reazione a questi ragazzi come un gruppo, una reazione da punto di vista tecnico, una reazione da punto di vista di disponibilità fisica, una reazione di gruppo vero sia in difesa come in attacco, veramente che mi fa molto felice. Sono veramente orgoglioso di essere allenatore di questo gruppo, che è stato stasera veramente corto, è un piccolo gruppo ma un gruppo straordinario. Dedichiamo questa vittoria perché è stata estremamente strana è difficile. I nostri tifosi, spero che hanno visto a TV, possono essere orgogliosi come sta la loro squadra sul campo, come si batte per terra, come raddoppiano insieme, come fanno rotazioni, come lottano per ogni palone. Questo è veramente una cosa che ci fa strafelici. Entusiasmo anche in casa Viss, dove l'allenatore Daniele Di Donato ha potuto festeggiare la prima vittoria sulla panchina bianco-rossa. 3-2 il risultato finale del match contro il Carpi, nel quale è stata fondamentale la rete segnata dall'ultimo acquisto vissino Manuel Di Paola. Mi fa strano ancora adesso pensare che una settimana fa, magari in un periodo brutto come ero, magari il pensiero anche di abbandonare ci sta che ti capiti nella testa, però anche questo è il calcio. Mi sono ritrovato da essere a casa a giocare una partita così importante per 90 minuti e quindi credo che questo sia il coronamento di un piccolo sogno che avevo quando era a casa. Faccio i complimenti ai ragazzi anche perché a questa squadra finora da quello che avevo visto mancava un po' di intensità. In questa settimana abbiamo lavorato proprio su questo aspetto e oggi si è visto. È stata una partita importante, una partita che abbiamo voluto a tutti i costi. Non era facile perché poi quando siamo andati il primo tempo dove aver giocato e aver sfiorato il 2-0 siamo andati sotto di un gol, siamo andati 2-1 nell'intervallo e non era semplice. Invece i ragazzi hanno disputato un secondo tempo importante, hanno messo alle corde il Carpi e meritatamente abbiamo portato a casa i tre punti. Fermo in box invece il Fano che per la seconda domenica consecutiva ha dovuto saltare la gara in programma visto il numero di giocatori risultati positivi al Covid-19 tra le fiere della Legnago Salus prima e dell'Arezzo poi. Queste le parole di mister Flavio Destro al termine di una partitella di allenamento organizzata e disputata tra gli stessi componenti Granata. Sicuramente dispiace non poter giocare, dobbiamo cercare di tenere i ritmi alti. Ha fatto una partita quasi di 90 minuti, è importante per i ragazzi giocare. Purtroppo non abbiamo potuto la seconda volta, speriamo sia l'ultima.